signori benvenuti se non indovini la canzone ti butti in piscina e ti butterai tu in piscina guarda quanto sono bello fresco cioè io non mi butterò io sono qua tutto asciutto sai cosa è piaggio di una tuffa in piscina? che cosa? una tipiata in faccia ok questa non è una raga bella signori ti vuole partire vedo già ok ok allora raga ho messo delle canzoni diciamo un po per tutti che potete conoscere tranquillamente posso partire già con la prima ok posso dire una cosa è giusta una cosa secondo me qualora dovessero non sapere gli altri si lanciano ma se gli altri la dicono hanno un bonus così che se non ne sanno una loro fammelo scusami non ho capito cosa voglio dire cioè refe non sa la sua canzone quella che adesso vai a sentire lui si lancia perché ha perso ma se uno dei noi due prima che dice la indovina si prende un bonus così qualora lui dovesse andargli di sfiga usa il bonus è giustissimo e per un massimo di tre bonus dai va bene facciamo così ci piace ci piace signori la prima è proprio questa qua la prima è proprio questa qua ci siete vai dai 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 vaffanculo 30 gradi bravo refe bravo refe grazie Anna questa qua non era difficile non è neanche facile però il titolo era abbastanza complicato uno pensa bellissimissima invece non è quello signori perché tik tok insegna il tik tok insegna vai prossimo signor conti questa qua io me l'aspetto da lei me l'aspetto eh non me l'aspetti finite qua ragazzi allora conti questa qua è molto famosa in tutto il mondo soprattutto in america quindi è orte anni c'è fanno non lo so il titolo non lo so l'inglese è il tuo turno signor il ferro intanto ragazzi io con il bar mi sono andato giustamente in la prossima è un classicone ma tanto non mi lancio ma provo tanto non mi lancio ok allora il prossimo è un classicone di tiktok ok vediamo se la conosci eh ma la cosa difficile è il titolo esatto questa forse non tanto è italiana col culo è più di titolo ok questa non lo so napoletana napoletana il titolo avete una sola possibilità italiana qualcuno di cubana allora italiana te la faccio risentire voglio che tu ce l'abbia bene chiaramente italiana col culo da cubana tetelana ma che parole dici ferro ok esatto quindi titolo tetelana napoletana tetelana napoletana davvero ultimissima risposta proprio questa è bravo allora dai per favore aiutami un po' lei la tua ragione la tua ragione ma ragazzi ma lo diceva la canzone all'inizio prima parola più facile di così e beh sai allora la prima parola in una canzone di vasco rossi era ciao droga droga allora abbiamo la prossima questo che è sempre a livello facile poi ragazzi dopo di questa inizierà il livello medio inizierà il livello dilettante poi abbiamo il difficile scusami dopo il facile non c'è il dilettante sono abbastanza sicuro dopo il facile c'è il dilettante poi c'è il no no non funziona così però mi tocca il rocco stai aggerando ma mi fai sapere la prossima canzone per favore e scusa e scusa veramente facile e scusa e che ne mi fai vedere un po' la canzone dai 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 la facciamo partire possiamo farla partire vai capitano capitano non vengono dica lei dai a me bro prima nota allora è di david guetta è di david guetta è con anche come si chiama quella che fa tende lì e si chiama raga e poi andate avanti ok titanium bravo ce l'abbiamo mamma floreco che per adesso è caduto il signor conti è ragazzi di 22 anni oh oh raga non parlatevi ho capito tutto è un video di un anno non parlatevi allora tu stavola preparata per te conti perché so che non sei il migliore nelle canzoni ok e qui ti ha messo e qui ti ha messo questa cosa di essere sincero non la conoscevo io perché non mi fai questo genere però vai la facciamo partire eh sì sto aspettando voi lì appunto silenzio stai fermo scusa sono girato oh bello come fa capo ok ce l'ho di vengoni bravo ok titolo la so cantare ma non c'è il titolo dai io sono il tuo dai destino no non lo so cuore ultimista vuoi che te lo faccio un attimo di risentire vai vai io uso il bonus bonus di la sorte venga 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 io sono il tuo guerriero no no te l'ho detto il titolo no 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 ma non lo so non lo so non lo so non lo so venga 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 appunto ah tu mi guardi venga venga eh però io sono il tuo no no a noi però tenzora perché qua viene fuori un miscuglio di cose conti ti voleva farare il culo ferro ma ferro ti deve buttare non hai capito nulla l'inizio di quello che hai detto anche te ovviamente chi era fuori poteva scusate se tu sbagli il bonus eh no se tu sbagli il bonus no se tu dovrebbe buttare no 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 mi dispiace no no veramente imbarazzato secondo me ti dovresti buttare dopo il mio turno conti non lanciarti se non puoi allora facciamo una cosa facciamo una cosa dai no lo sapevo bravo bravo capo Matteini lei è pure vestito Matteini con i 12 pantaloni che è in villa venga qua adesso ti alza guarda se la scappa va via questa è stata meritata ti conviene scappartela allora questa qua posso dire che ce la siamo scordate ieri sera ieri sera stavamo chillando stavamo parlando tra di noi buffalo e vediamo vediamo se la conosci sì marijuana di gali ho sentito le redetta ma è willy willy no ma va faccio signori willy willy tutti a fare in culo in culo di merda va faccio dai fammi una tosta una difficile una difficile e vogliamo passare subito a quelle difficili vai 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 dai no andami tutto allora questa qua è un classico italiano e gli andoci uno sputo che è precisamente qua guarda qua che carino questo qua è un classico italiano a me non piace come canzone ma io guarda sono famoso per ascoltare l'italiano è stata numero uno per tanti anni in Italia pensate quanto mi interessa tanto non la conosco per tanti anni questo è molto difficile come cosa si infatti probabilmente qualche si posso aver sbagliato magari era occidentali scarma no no occidentali scarma allora è di è di giusy ferrini cazzo è giusy ferrini ok è quella lì che fa è quella lì che fa vai 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 fanno andare un po' perché questa era è non voto perché poi ci prendiamo il coppietto quindi eh non c'è cosa non c'è eh ecco non è che ti faceva parlare tutte le stagioni no 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 eh aspetta stio porco da 0 a 100 nooo come venivi banale vieni vieni uomo latto signor ref si deve buttare perché questa era jambo si chiamava jambo non mi è abbastanza difficile però vedo che è italiana si chiamava jambo e cantava in inglese ok giusy ferreri giusy ferreri giusy ferreri confermo giusy ferreri su 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 dai dai buttati e ce l'abbiamo signori facile e veloce la prossima torniamo sul direttante conti dai vaffanbeco ragazzi ma perché mi devo bagnare sapete qual è il mio problema che io le so le canzoni ma non so i titoli ok questa qua bro questa qua sicuro la devi sapere non me ne frega vai adesso devi sapere guardi subito io ti aspetto dove il mano non si vede più questa è di ultimo prima cosa ok di ultimo oddio però ce ne sono tantissime vuoi che te la faccio risentire da capo? se vuoi te la faccio risentire da capo però mi puoi mettere un pezzo a metà piccolino un pezzo a metà un secondo proprio ok ok ah ma lui la fai ascoltare di più a me no cazzo dove il mano non si vede più no 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 come cazzo non era però hai dieci secondi dieci nove qualcuno un aiuto da casa io dico il silenzio io l'ultimo ragazzi non ne conosco no io la so tutta ma l'ho sentito no esatto lo so pure io possiamo dare un piccolo e ho perso treni e ho perso voli ok dai 5,4,3,2,1 pianeti di ultimo ragazzi questa qua è la mia preferita di ultimo veramente bella io non mi ascolto ultimo ti prego dimmi che mi ha finito ti prego dimmi che mi ha finito non ne posso più sono le ultime due teferro esatto esatto è giusto per bro ti prego non farmi la complessissima no 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 mi hanno buttato giù il capo no la sto decidendo tanto sono qua sono carine ok questa qua raga mettine una che possiamo conoscere non jambo jambo non sa nessuno ok ragazzi vado di questa eh porco tu com'è che si chiama eh è che di shakira proprio il picchiere no way shakira si è vero che è quella cosa lì è quella cosa lì si devi dire il titolo come stu come stu ultima parola no definitivo no ok no definitivo definitivo è molto più facile di quello che pensi è la tipa come stu è molto più facile di quello che pensi è la tipa come stu ok tu sei tu hai mai ascoltato bizzarrap che è il dj si ok qual è il titolo delle sue canzoni solitamente eh ok no fiano fermi hai 10 secondi no 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 signori mentre che lui ci sta pensando iscrivetevi al canale iscrivetevi qui sotto il nome di questa canzone se la conoscete non è tipo vol.52 rec 52 no è una parte ma io ti chiedo il titolo ti chiedo il titolo allora che cazzo me lo dice a fare ok basta che colleghi le cose letteralmente come stu volume volume 52 53 quasi 54 è giusto ne glielo diamo buono dai dai allora il titolo è shakira bizzarra music session tutti i titoli volume 53 ma come ho fatto a beccare il 53 assurdo è vero molto assurdo vai refe questa qua ti aiuteremo tu vuoi buttarti o no no non si vuole buttare gliela facciamo gliela facciamo tranquilla dai gliela facciamo tranquilla allora però non mi metti roba inglese cioè spagnola no no guarda ce n'avevo una spagnola però purtroppo non la posso fare ce l'abbiamo ce l'abbiamo giampiero giampiero beppe 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 bellissimissima bravo beppe signori super oh mi stavo uccidendo signori voi scrivete qui sotto i ricomenti quante le conoscevate ci vediamo al prossimo video un bacione a tutti il codice beppe un po' abbarrato ti l'ho detto io ma ci sta un po' abbastanza un po' abbastanza